La gioia di quelle due coppie di papà, una nel Regno Unito, l'altra negli Stati Uniti, hanno adottato lì i loro bambini che oggi, dopo le sentenze del Tribunale dei Minori di Firenze, sono figli a tutti gli effetti anche nel nostro paese. È la prima volta che vengono riconosciute in Italia adozioni da parte di coppie gay, mentre già altre volte i giudici si sono espressi a favore della step-child adoption, che però è altra cosa, consente a un figlio di essere adottato dal partner sposato o unito civilmente del genitore. Non è solo un enorme passo in avanti dal punto di vista del riconoscimento dei pari diritti per le coppie omosessuali e le coppie eterosessuali, è soprattutto una vittoria per tutti i bambini e per tutte le bambine grazie al riconoscimento della continuità affettiva. Al tempo stesso, data l'importanza della sentenza, si tratta anche di sottolineare la carenza dal punto di vista legislativo in Italia. In un panorama legislativo disomogeneo anche in Europa, dove ci sono paesi che già prevedono i matrimoni gay e altri in cui valgono solo le unioni civili e ancora divisioni tra possibilità di adottare, step-child adoption, in molti casi in Italia i diritti degli omosessuali passano per le aule dei tribunali. La legge italiana prevede delle regole importanti a tutela dei bambini che sono i protagonisti del processo di adozione. Deve essere una famiglia che ha certe caratteristiche, tre anni di matrimonio alle spalle, una mamma e un papà. Una vicenda speciale come questa non può diventare un precedente, altrimenti saremo davanti a una forzatura da parte dei giudici nei confronti delle... Grazie a tutti.